Inter Udinese, la difesa all'osso ma è già collaudata Samir Angela KO, si va verso il bis della formula Benevento di Pietro Leotto Udine. All'osso. Ma, come sappiamo bene da queste parti, anche dove è difficile lavorare di coltello si possono ricavare delle prelibatezze degne di una cena all'insegna della bontà. A dire il vero sabato a San Siro si giocherà nel primo pomeriggio, alle 15 orario insolito per un anticipo ma Massimo Oddo dovrà fare proprio il parallelo culinario e convincere la sua Udinese che anche con una difesa all'osso, anche senza due possibili centrali titolari come il brasiliano Samir e Angela, la partita contro la capolista intera è tutta da giocare in virtù di una ritrovata solidità della retroguardia che è andata oltre le difficoltà del momento e gli interpreti. Perché già con il Benevento i bianconeri hanno proposto la formula composta dagli elementi Stringer Larsen, Danilo e Nuitink? Perché il tecnico pescarese non sembra intenzionato a ritornare al passato, a riproporre lo schieramento a 4 cavallo di battaglia di Gigi del Neri solo a causa delle assenze, seppur pesanti. E anche, a naso, piuttosto lunghe. I malanni muscolari che hanno bloccato Angela e Samir peseranno anche sulle scelte di Coppa Italia, martedì al San Paolo contro il Napoli, e al 99% anche sul darbitri Veneto con il Verona. In programma prima di Natale, c'è uno spiraglio per il mancino ex-Flemengo, ma è meglio non crederci troppo per non dare neppure fiato ad alibi psicologici che, a questo punto della stagione, dopo due vittorie balsamiche ma tutt'altro che risolutive, ha bisogno di risposte chiare. Insomma, avanti con il 3, 5, 2 e, in particolare, con quella difesa a 3 che è fornito dei segnali confortanti fin dall'esordio con il Napoli. Tanto che nell'appuntamento successivo a quella partita, in Coppa Italia, contro il Perugia, Oddo ha proposto Larsen come centrale di destra, spostandolo dall'amata fascia già occupata da Wilmer. Un esperimento a luci e ombre che però non era da bocciare, tanto che, in difficoltà per il forfè di Angela, il tecnico ha riproposto il nazionale danese in quella posizione anche contro il Benevento, senza pagare Dazio. Si dirà, la cenerentola sannita non è la capolista inter, d'Alessandro non ha la stessa pericolosità di Perisic in quella zona del campo, ma è altrettanto chiaro che sabato l'attenzione e l'applicazione difensiva andranno raddoppiate in casa bianconera. D'altra parte Oddo ha una sola vera alternativa senza Angela Esamir, il polacco Pau e il Bochniewicz, nazionale under 21, 17 minuti in Coppa Italia tra gli impegni ufficiali di quest'anno, come riportiamo nel grafico a sinistra, NDR, laddove va l'ombera mi pare una soluzione impraticabile in quella posizione, non solo per la condizione fisica e un rientro ancora avvolto nel mistero. Il 21 maggio, nell'ultima gara in Premier, giocò da difensore centrale non fin in gloria, Watford City 0 a 5.